Nonostante il calo dei contagi all'inizio della fase 2, si raffredda la voglia di vacanze e emerge dall'indagine di Conf Turismo. Conf Commercio, in collaborazione con SVG, secondo cui aumenta la quota di chi al termine dell'emergenza, rimanderà la vacanza, anche potendola fare e le prime uscite post-Covid-19 saranno di pochi giorni e vicino alla propria città. Intanto la questione preoccupa tutte le categorie legate al turismo, come i titolari di strutture ricettive, che avranno bisogno di un piano di sostegno economico per la sopravvivenza. Ma non possono essere misure simboliche, servono misure sostanziali. Il comparto è un comparto che perderà dalle nostre stime solo su quest'anno una cifra intorno agli 8 miliardi di euro. Tutte le aziende stagionali, nessuna esclusa, e una buona parte delle aziende annuali. Lei immagini che abbiamo un patrimonio di 15 mila attività ricettive, di queste 15 mila circa il 70% sono di carattere stagionale.